La crisi con Chico Nalli Tina Cipollari smentisce la crisi con Chico Nalli, le sue parole Chico Nalli e Tina Cipollari, è crisi? La smentita dellopinionista. Tina Cipollari ha finalmente detto la sua riguardo alla presunta crisi con il marito Chico Nalli, i due quindi si sono lasciati o hanno preso una pausa di riflessione? Niente di tutto ciò. A confermare la notizia è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne che ha rilasciato recentemente un'intervista al settimanale di Gossip Novella 2000. Tina ha dichiarato infatti che lei e Chico sono una famiglia unita e non concepisce perché c'è sempre qualcuno che vuole dividerli. Inoltre, la Cipollari ha palesato che quando aveva parlato di una pausa di riflessione si riferiva soltanto al suo lavoro, per lei infatti questo 2017 è stato un anno pieno di impegni e ricco di successi. Anche l'imminente stagione televisiva sarà piena di appuntamenti, e voleva quindi semplicemente prendersi un momento per riposare, da lavoro ovviamente, non dal marito. Tina Cipollari infatti oltre a ricoprire il ruolo di opinionista all'interno del dating show di Canale 5, era stata anche giurata per ben due edizioni del programma Selfie e le cose cambiano, ed era stata intervistata anche da Silvia Toffanima Verissimo. Tina Cipollari e Chico Nalli non si sono mai lasciati, la dichiarazione della BAMP. Il duro lavoro di Tina Cipollari l'aveva quindi costretta a pensare di prendersi una pausa, ma tale dichiarazione era stata mal interpretata dai giornali, molti infatti avevano creduto che volesse prendersi una pausa da suo marito Chico Nalli. Niente di più falso. In realtà, persino il nuovo hair stylist di Barbara D'Urso aveva smentito tale notizia durante un'intervista rilasciata a Eva 3000, in quell'occasione, Nalli aveva affermato che la crisi tra lui e Tina era stata tutta un'invenzione dei giornali. Tuttavia, tutti si erano chiesti del perché la Cipollari non si fosse esposta per salvaguardare il proprio matrimonio, ma le malelingue sono state oggi fermate, l'opinionista di Uomini e Donne ha quindi chiuso definitivamente questa brutta vicenda, smettendo una volta per tutti il gossip. Da quando si sono spenti riflettori dello studio di Uomini e Donne, Tina ha passato un'estate estremamente riservata e lontana dalle telecamere, godendosi quindi in questo modo appieno la famiglia, forse proprio per l'assenza di prove che attestavano la felicità che univa la Cipollari e Nalli la notizia si era quindi sparsa a macchia dol'io di giornale in giornale. Tina ritornerà comunque in tv con l'immancabile appuntamento con Uomini e Donne, mentre non rivestirà più le vesti di giurata a selfie, in quanto la trasmissione per ora risulta cancellata.